Allora, per quanto concerne il video sui pensieri, diciamo che pensavo al mio Napoli calcio, prima di tutto, perché già avevo accenato qualcosa ieri, in realtà le prime due squadre in classifica, che erano in questo momento Milan, primo posto Inter, hanno entrambe pareggiato su un evidente calo, cali di vari motivi, ma il Napoli diciamo che stasera l'ha ghiottissima, un'altra occasione d'oro già sprecata il turno scorso, di poter ritornare al primo posto battendo insieme al Milan, ma comunque nella classifica fisica e sopra al Milan, perché ha vinto in casa del Milan la partita di andata e tra l'altro il ritorno si giocherà proprio tra la settimana prossima, comunque avrà la possibilità di ritornare al primo posto in classifica e quindi proprio al primo posto in assoluto, anche se la partita è molto complicata, perché chi sarà in casa della Lazio e come allenatore che abbiamo avuto in passato, siamo tre quattro anni fa, Sarri, che è stato quello che più si è avvicinato a farci vincere il campionato, l'ultimo anno in particolare sua, tra l'altro ha battuto anche il record di punti, ha raggiunto anche il record di punti per il campionato del Napoli, una somma di 91 punti mai raggiunta da nessun altro, comunque quello scudetto praticamente per le ultime giornate avremmo potuto vincere, ma poi, diciamo così, abbiamo avuto un po' paura, ma anche per altri motivi legati alla Juventus, una società pericolosa, diciamo, dal punto di vista dell'illecito, eccetera. Purtroppo non è stato possibile vincere quel campionato, ma io lo considero comunque vinto, ad ogni modo questa è un'altra occasione ripetibile, speriamo appunto da stasera riusciamo a vincere anche perché siamo usciti dalla Coppa Europea contro il Barcellona, già si sapeva che per quanti non lo credessero perché in Barcellona non è la stessa squadra di 10-11 anni fa, in realtà io l'ho sempre creduto, quindi che comunque anche quest'altra squadra fosse forte in ricostruzione, ma è di nuovo forte. E quindi sì, adesso abbiamo solo il campionato praticamente, sono altri tre mesi, io credo che altre 12 partite, cioè 11 comprese quelle adesso, quindi 12, credo che per questo spinto finale, essendoci solo il campionato, possiamo chiaramente vincerlo, ma dipende solo da noi, vincere tutte e 12 le partite, io credo ce la possiamo fare. Confido sempre nel suo numero del report, che appunto spero possa essere indicativo anche per il risultato della partita. E poi oggi sono anche, diciamo, esattamente quattro anni dalla mia prima laurea, che qua è divisa in tre anni più due anni, è magistrale due anni, i tre anni, i primi tre anni, insomma funziona quasi praticamente, quasi tutte le università. Comunque quattro anni dalla mia laurea triennale in filosofia e sì, poi guardate che coincidenza diciamo, cioè manca a farla apposta proprio in quel giorno a Napoli nevicò di nuovo dopo trent'anni, perché erano appunto trent'anni che a Napoli, diciamo, non nevicava. Guarda un po', guarda caso, quando venne a nevicare, proprio quando mi laurea io, quindi diciamo che è una seduta, una giornata che ricorderò principalmente per questo motivo qui, che appunto è una cosa straordinaria, che tutti i laurei, diciamo, vengono anche a nevicare, dopo trent'anni e soprattutto in una città come Napoli. Quindi non so se metto, diciamo, un breve filmato, un breve filmato o delle foto, o qualche una foto, diciamo, come copertina del video, ma non credo, non credo perché comunque certe cose secondo me devono restare private, o comunque a me non sono il tipo a cui piace diffondere completamente i fatti privati, anche se questi non sono proprio fatti privati, però comunque non mi piace rendere completamente pubblico ciò che ho fatto, eccetera, tutte queste cose. Il resto in fondo qui mi focalizzo, non mi focalizzo sulla mia persona, cioè appunto i fatti privati, ma su, appunto, l'attività di ciò che interessa, cioè di ciò che parlo, quando parlo, così come anche sul canale, in fondo tastiera, non esco mai al di fuori delle interpretazioni della tastiera, almeno cerco sempre, che non ho mai la pretesa di dire sì che è così, ma comunque cerco sempre di non uscire mai al di fuori delle interpretazioni di tastiera, o comunque cose inerenti sempre alle musiche, insomma, c'è anche conto dell'attività, ma non il fatto privato, quindi per questo non credo che metterò la foto per far vedere, eccetera, però comunque volevo condividere con voi la notizia di questo momento, diciamo. Sì. Lo so su che cosa fu la tesi, su Cartesio, diciamo, adesso proprio non mi ricordo niente, mi ricordo almeno il titolo, dovrei andare a riprendere in mano, la tesi proprio cartacea fisica, ma non mi ricordo, però appunto era su Cartesio, insomma, sono un po' sulla filosofia Cartesio, ma sulla questione, differenza, sogno e realtà, centrale comunque anche nella filosofia, e ad una certa parte della tesi può inserire anche Inception di Nolan, quindi una tesi anche cinematografica, se vogliamo. Sì, se mi sbaglio, il titolo era Dubbio, Men's, Sogno, due punti, osservazioni sul pensiero moderno e su una sua trasformazione visiva, appunto dove questa trasformazione visiva stava proprio per il fatto che l'oggetto della tesi a un certo punto si riferì appunto a una film, a Inception di Nolan in particolare, però poi fece anche dei confronti con altri film che riflettono questo rapporto, sogno e realtà cosa differenza, e se non erro pure inserì anche Mullolan Drive, il maestro, quindi il maestro deve essere fiero di questa citazione, oltre al fatto che lo ringrazio, perché poi non saprei, diciamo, come avrei riempito quelle pagine, diciamo, più o meno finale della tesi, se non avessi visto Mullolan Drive e quindi non ci fosse stato lui. Lo stesso discorso vale anche per la tesi magistrale, dove in realtà insegli proprio una nota finale. Il fatto che Ben Horn, adesso ricordo esattamente l'episodio, comunque in un episodio della seconda stagione, ha tra i scaffali del, diciamo, del suo studio, come libri ha il Giuseppe e i suoi fratelli Thomas Mann, che io appunto l'ho letto, su cui ho incentrato, diciamo, su cui ho incentrato la tesi magistrale appunto in filosofia, cioè quella di due anni fa, perché la tesi magistrale è stata praticamente due anni fa, cioè il 19 febbraio 2020, e quindi sì, forse ricarico anche un video di cui ne ho parlato, ma che per una questione di tempo non ne sono riuscito a caricare, dico riguardo alla tesi magistrale, ma vediamo un po'. Comunque, tesi triennale col grande professor Lomonaco, Fabrizio Lomonaco, uno dei più grandi professori lì a quella università, a Napoli, in filosofia, storia della filosofia, e infatti lui insegna storia della filosofia moderna, storia della teoria, storia della storiografia. Però in questo momento mi sfugge il correlatore, quindi poi ringrazio, anche se non lo dirà, c'è nel senso, non avrà voglia chiaramente di dirlo, però ringrazio eventualmente per questo giorno 2 dei Weekend Projects, forse sarebbe il sesto giorno, pensando al carnevale, in realtà Mr Lynch ha appunto per i suoi progetti, ricambia la fortuna anche per i vostri progetti di levite, ma è chiaro che come ha detto lui nel suo discorso è difficilissimo fare adesso questo discorso pensando alla situazione ucraina-russia, quindi non lo dovrei neanche... Ad ogni modo, faccio vedere di nuovo il tempo perché... Stamattina la premessa sembrava veramente benissima perché c'era veramente quel Dos Beautiful... Cioè erano Dos Beautiful Blue Sky, sembrava che ci sarebbero stati, avevo parlato di a meno che non ci sarebbe stato un clamoroso cambio, e invece inaspettatamente il clamoroso cambio c'è stato, quindi bruttissimo tempo, ah che dire, adesso sono diciamo un quarto, tre e venti, però a questo punto mi auguro che domani invece sia... Insomma, però penso di aver pensato tutto, sì, nel caso appunto mi venisse sempre qualche altra cosa in mente, la aggiungo in descrizione, have a great day again, a domani!